Ebbene cari amici, ben trovati di nuovo a tutti voi, andiamo a chiudere, a chiosare questo lunedì post-derby quel derby che insieme alla partita serale Inter-Frosinone ha sancito la chiusura e il completamento della dodicesima giornata di campionato 12, 24, 36, non siamo ancora esattamente a un terzo, calcolando però che dalla prossima lo superi il terzo, 13, 26, 39, su un totale 38 partite diciamo che tendenzialmente siamo a un terzo del campionato e siamo a un terzo della nostra Lega di Fantacalcio e già perché in questo video andiamo a parlare proprio della nostra Lega di Fantacalcio amici miei, andiamo a vedere un po' quello che è successo, vado a memoria, non ho per niente buone sensazioni mi sono trovato con una formazione rabberciata, non credo di fare punti in maniera importante sto ragionando così a occhi aperti insieme a voi ma non credo che andrò a prendere punti non è una buona sensazione, non è un modo di andare alla pausa alla pausa così perché mi ero imposto di ritornare a fare punti e onestamente ho forti dubbi su questo sul fatto di riuscirci o meno che vedevo dire, andiamo a vedere, vi faccio subito una cosa, mi raccomando una richiesta importante scrivetemi nei commenti cosa ha fatto la vostra squadra, fatemi sapere che avete combinato con la vostra squadra del Fantacalcio e soprattutto ricordatemi sempre come si chiama perché starsi a ricordare 80 squadre nella nostra Lega di Fantacalcio non è proprio facilissimo, quindi vi invito per favore a scrivermi anche il nome della squadra ragazzi che vedevo dire, andiamo a dare un'occhiata a quello che è successo a questo Fantacalcio sperando che a voi sia andata meglio che a me, ciao ed eccoci, eccoci qua ragazzi ben ritrovati partiamo sempre come facciamo sempre con ordine in maniera schematica con questa classifica e con una squadra, la mia, messa laggiù al dodicesimo posto frutto di due settimane senza andare a punti mentre magari davanti ci sta la coppia a Ciparma, arriva lo squadrone con la giunta anche di Palermo che si sta piano piano distaccando poi magari vediamo un attimino cosa accadrà adesso mi ero posto l'obiettivo di andare a punti come vi dicevo nella intro di questo video la vedo davvero brutta, brutta, brutta sono sincero, lo dico proprio sinceramente e andiamo un po' a vedere con che squadra ero sceso in campo guardate un po' Maignan, sei e mezzo, prende due gol e vabbè Dorgu ho avuto una buonissima intuizione porta un bel sette Vuevoda senza voto Gatti prende il sei Pulisic e Zaccagni non hanno giocato Foloruscio cinque e mezzo Lindstrom bene o male strappa il sei Solè non sbaglia mai sei e mezzo Chiesa bene, Lautaro Martinez ha sbagliato Ragazzi qui non c'è area di gol quindi mi ritrovo senza Pulisic e Zaccagni vediamo un po' il centro campo Ti dirò Ti dirò Ti dirò Castilego e Barenecia come cazzo allora si chiama questo Prendo non sei ma a queste condizioni io la vedo davvero dura dura andare a punti vabbè questi sono tutti gli infortunati ha giocato Iono la vedo la vedo davvero durissima ragazzi andare a punti che demò fa? andiamo a calcolare sta giornata e vediamo un po' che succede dodicesima giornata allora sconfitti a tavolino di Peppe 25 punti Xeaseded 20 punti ragazzi realcolizzati 20 punti anche loro Deportivo Palencia 17 punti Peppe 16 punti insieme a Team Massimo Palermo 14 punti AC Tua 13 punti Mascherine United 13 punti una marea di coppie ragazzi Borussia Porkmund New Team e Milan 11 punti arriva lo squadrone e Real Liba 8 punti Lino Banfield 6 punti 5 punti per Tifosetta Ardita per S. Chris e Team Victory insieme ad Athletic Heart Attack e poi abbiamo Sporting Seven e Juventus FC che prendono un punto ragazzi attenzione perché ci sono grosse novità in vetta la classifica la classifica secondo me l'ultima che è andata a punti in questa settimana ne ha fatti 79 come potete vedere 79 punti eccolo qua che è Juventus FC e noi e noi mamma mia 70 punti ragazzi siamo stati tra i peggiori in assoluto siamo stati tra i peggiori in assoluto ragazzi siamo stati tra i peggiori in assoluto Voivoda Pulisic e Zaccagni come detto non hanno giocato sono entrati Castileco e Balenechea e Oiono 5 e mezzo in più abbiamo preso un punto del modificatore d'attacco perché hanno preso tutti la sufficienza un punto dei fair play e due punti e mezzo del modificatore di rendimento cioè nonostante questo una situazione brutta 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 classifica eccola qui la classifica ragazzi colpo di scena c'è il controsorpasso c'è il sorpasso del di arriva lo squadrone che va appunto a fare 102 punti e va in testa la classifica vi ricordo che arriva lo squadrone e la squadra campione in carica Palermo sale al secondo posto con 101 punti e AC Farma diventa ex capolista terzo posto con 96 punti Peppe va al quarto posto con 84 punti appena appunto sotto molto bene sto ragazzo S. Cris 83 punti 80 punti per ovetto di Pasqua New Team 79 a quota 77 Paris Spritz Germain a quota 71 ragazzi guardate che poker Sporting 7 Tifosetta Ardita poi usciamo dalla Top Teven Team Massimo Ex Aseded che è colui che ha fatto tra più punti in questa settimana abbiamo poi Eagles 1900 a quota 69 punti a quota 65 scendiamo ancora ragazzi al 14 al 14 posto noi poi a quota 55 abbiamo la Cremonese di Giuliano e arrivo primo a quota 52 Eagle Mone 17 51 punti a quota 50 19 20 21 posto Aston Birra Juventus FC e Racing e Racing poi andiamo ancora un po' più giù a vedere anche fino al trentesimo posto poi abbiamo Racing a 50 punti 21 posto al 22 posto Maina Gioia 49 punti al 23 posto Lazio Luis 46 punti al 24 posto Rint Team 40 punti al 25 posto AC Lucius 40 punti al 26 posto FC Scorregina 40 punti al 27 posto Milan 37 punti al 28 posto Aquilotto 37 punti al 29 posto Gambero Rosso United 36 punti e poi abbiamo al 30 posto con 33 punti Liverpool vediamo un po' giù in fondo delle sette che sono entrate l'altra settimana 1 2 3 4 5 6 una di esse è andata a punti non mi chiedete chi è perché non mi posso ricordare forse è Lino Banfield ma sono molto così sto molto andando a memoria insomma questa è la classifica finale fatemi sapere andiamo anche ad annotare AC Parma l'ex capolista che comunque è quello che fa registrare più punti in assoluto da inizio campionato ad oggi fatemi sapere come è andata la vostra squadra vi mando un abbraccio forte e viva il fantacalcio ciao ragazzi